Siamo felici, oggi apriamo finalmente questo spazio che è una piazza ma è anche un luogo dove attorno al cibo, alla matriciana, si riunirà tutto il paese. Abbiamo avuto le famiglie che hanno dato i fondi, le imprese che vengono dal Friuli, operai, imprese, aziende, impianti gli architetti del mio studio che vengono da tutte le parti del mondo, tutti abbracciati per cercare di dare una mano a Matrice a ripartire e oggi questo è un segno importantissimo. Qui lavoreranno più di 120 persone e questo sarà un luogo dove sarà possibile percepire il paesaggio straordinario, il cibo straordinario e la qualità anche straordinaria umana di questi cittadini, di queste persone che sono state travolte da un evento tragico pochi mesi fa. Quando succede che l'architettura diventa utile e succede non così frequentemente, quando diventa utile davvero a una comunità intera, è una felicità unica. I ragazzi nel mio studio, tutti noi, gli architetti, i professionisti siamo felici e siamo, come dire, grati a chi ci ha dato la possibilità di fare questa esperienza unica.